Oddio, spero di non aver reso una cantorata. Ho fatto una cosa che non mi sarei mai creduta di poter fare. È arrivato un pacchetto e lo volevo aprire con voi per appunto mostrare la mia reazione e capire se il rischio che mi sono presa è valso la pena. Allora, il pacchetto in questione è... Firmò. Ho ordinato un paio di occhiali online. Cioè, ditemi voi. Lo so, lo so, già sento le voci. Ma che? Ma come è fatto? Ma perché? Ma poi so, da vista? Di qua? Di là? Sì, sono da vista perché sono miope e quindi ho bisogno degli occhiali da vista. Cioè, questa cosa veramente mi ha fatto un pochino... Mi ha fatto un po' di ansia perché appunto non ero sicura. Io che quando scelgo gli occhiali ci metto tre ore, me ne provo 50.000 e prendere un paio di occhiali senza vedere come mi stanno... Panico. Però, devo essere anche molto sincera. Il sito è ben fatto. Oltre al fatto che potete trovare la qualunque, cioè il qualunque tipo di montatura, sono bellissime. È facile ordinarle proprio perché loro ti danno la possibilità di fare la prescrizione. Quindi basta che tu vai dal tuo ottico, ti fai dare il fogliettino con la prescrizione e inserisci tutto nei dati. Cioè, passo passo. E vedendo nel sito c'è anche una casellina dove se hai bisogno di aiuto c'è qualcuno online che insomma ti aiuta. E questo serve, secondo me serve tantissimo. Per me che io sono imbranata e queste cose veramente sono sempre molto... Quando hai bisogno, clicchi, compare e puoi chiedere aiuto appunto ad un operatore. Sono scettica, o comunque ero scettica, perché vedevo queste montature pazzesche a pochissimo e mi sono sempre detta, ma è possibile avere un paio di occhiali belli alla moda senza dove ci lascia un reno ogni volta che vai a fare montature e lenti? Adesso lo scopriremo, perché apriremo e vedrò se questo rischio che mi sono presa è valsa la pena. Mi sono emozionata, ve lo giuro. Allora, intanto il copanetto è così, è bellissimo. Sono riposti all'interno appunto della loro sacchettina. Mamma mia, ragazze, dai. Cioè, ditemi se non sono bellissimi questi occhiali. Non mi resta che provarli e vedere se effettivamente mi stanno bene. Una cosa che volevo dire, che io poi chiacchiero tantissimo e mi perdo. Nel sito c'è la possibilità di fare un selfie. Certo, fare un selfie e provare gli occhiali non è come provarli dal vivo. Questo io non lo metto in dubbio. Però vi dà la percezione di capire sul volto come stanno gli occhiali. Intanto togliamo questi qua. E mettiamo questi. No, vabbè. No, vi giuro, sono bellissimi. Cioè, ditemelo, fatemelo sapere. Io li adoro. Ho scelto questa montatura perché più o meno, oddio no, non è simile. Però comunque ha questa parte allungata di qua. Questo è molto più ampio, è molto più largo. Mi è piaciuto subito. C'erano anche neri, devo essere sincera. Però volevo cambiare perché comunque io li ho presi sempre neri o comunque rossi. E questi più o meno sono neri, più o meno nero. E all'interno sono rosa, no? Hanno il contrasto. E ho voluto prendere una cosa simile che però, cioè, guardate. Cioè, al cuoricino. Cioè, no, ma non potete dire che sono brutti. Non potete dire che non sono occhiali da vista top. Io ho trovato semplice mettere tutti i dati che, insomma, il mio ottimo mi ha dato. Sì, mi sono presa questo rischio e sono contenta perché gli occhiali stanno benissimo, sono felicissima. Adesso mi ci devo un po' abituare perché appunto è grande e non l'ho mai indossato così. E devo dire che finalmente esistono degli occhiali, ragazze, alla moda. Cioè, ditemi se non sono questi alla moda. E non per forza bisogna spendere un patrimonio e là c'è un rene. Cioè, voglio dire, è fantastico. Cioè, sono top, veramente. Sono bellissimi. Io li adoro e penso che me ne farò altri. Perché le montature veramente costano poco. E una volta che ti fai le lenti, ovviamente non spendi mai quanto spendi dall'ottico. E comunque sia sul sito c'è sempre, trovi sempre tutti i dettagli dei costi. Se vuoi fare le luci, le anti-UV, se li vuoi fare scurire, se li vuoi antiriflesso. Insomma, ci sono tutte quelle caratteristiche che fai dall'ottico. Le puoi fare anche da loro. E comunque sia, il prezzo non è mai quello che vai a pagare dal tuo ottico. Quindi, questo già è top. Io sono contenta. Troviamo anche all'interno, insomma, tutto la... ...di alimenti. E poi c'è uno sconto che vi lascio qui, di Firmo. Firmo mi ha detto che il codice vale anche per l'Italia. Quindi sono felice perché ho spiegato che, sì, vivo in Inghilterra, ma ho molti follower italiani. Anzi, forse più follower italiani. Per questo mi sto facendo anche un video in italiano. E quindi lo sconto vale anche per voi. Basta mettere Firmo Italia invece di UK. Quindi Firmo.it. Comunque vi lascio tutte le indicazioni appena riesco a editare tutto il video. Ragazzi, io sono felicissima. Fatemi sapere nei commenti se questi occhiali sono veramente alla moda. Cioè, io li trovo bellissimi. Forse io sono un pochino di parte, però sono stupendi. E vi giuro che su Firmo, sul sito, trovate altre montature pazzesche a poco. Veramente a poco. Se non lo fai ancora, seguimi. Lascia un cuoricino. Lascia un commento. E magari salva il video o mandalo a qualcuno se vorrai ritornare o trovare il video degli occhiali per vedere anche tu se stai cercando qualcosa per te. Io so felice, so contenta. E baci.